La Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio di 46 persone per gli scontri dell'estate scorsa al cantiere di Chiomonte della TAV Torino-Lione. Si tratta dei tentativi di ingresso con abbattimento delle reti compiuti il 26 giugno e il 3 luglio scorsi, reati ipotizzati, resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale. C'erano stati oltre 200 tra feriti e contusi e in gennaio erano stati arrestati 26 attivisti. L'udienza preliminare comincerà a luglio.